E' questo, per il gioco di tutti i posti, no? A cui viene? Vai, a cui... Bello! Bello mio, d'accordo. Ah, l'inverti proprio? No, no, no. No, no, no. Eh, che faccia? A me ne piace. Sembrava più caldo. Ah! E' giocorto un'altra. Ma forza. Tira! No! A te li dico? A te li dico, eh? Oh, no, no. Tira fuori tu. Ah, due! Che c'è il ruolo? E' la parla. Oh, no, no! Forza! Che è il ruolo? Un ruolo? E' il ruolo? Eh, la parla? E' il ruolo? E' il ruolo. Andiamo nero, grazie. Sì, 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 sì. Grazie. 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 Dov'vi stanno a mancarla se volete a mancarla. Esatto. Che sono andate Andrea? Sono quelli. Non si va a fattore. Il tuo pallone va a tappare. E tiene le tasse a te. E non accompagni la vita. Visto. André. Ah, questo vuole. Grazie. 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 Sì, è sbloccato. 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 Sì, è sbloccato.